Italiani ed europei sempre più imbottigliati in auto. Nel 2022 il numero medio di autovetture ogni mille abitanti nell'UE era 560. Nel decennio 2012-2022 il numero medio aumentato del 14,3%, da 490 a 560 autovetture ogni mille abitanti. Lo spiega Eurostat e nell'ultima rilevazione. L'Italia ha il numero più alto con 684 autovetture ogni mille abitanti, seguita da Lussemburgo, Finlandia e Cipro. Nei gradini più bassi della classifica troviamo invece la Lettonia, con un tasso di 414 autovetture ogni mille abitanti, seguita dalla Romania e dall'Ungheria. Tra i paesi dell'UE la Romania ha registrato la crescita più elevata di autovetture per mille abitanti, più l'86,2%, seguita dalla Croazia, Ungheria, Slovacchia ed Estonia.